Wender ha creato questo nuovo blocco che si chiama Sono Carico. Sentiamolo, vai. Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta... Sono Carico, Carico, Carico! Sono Carico, Carico, Carico! Sono Carico, Carico, Carico! Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi. Stefano! Sì? Ciao, come stai? Sono Michele. Ci siamo conosciuti al molo quest'estate. Ciao Michele, sì, ciao! Come stai? Bene, te? Beh, abbastanza. Adesso ho avuto un periodo così, sono stato tanto bene, ma sto meglio adesso. E invece come va? Stai pescando sempre? No, no, c'è una settimana che c'è il mare grosso. Ah, e quindi non si pesca col mare grosso? No, 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 no. Porca miseria, porca miseria. Problema. Eh, mi dispiace, mi dispiace. Eh, vabbè. Ma quando si può riprendere a pescare? Cioè dura un totti? Quando smette, si cambia il mare, è scaduta, ci vuole una settimana, dieci giorni. Ho capito. Perché cosa fai nel frattempo quando non peschi? Eh, niente, vado in giro. Vai in giro, vai in giro. Un minuto. Senti, vabbè, ti ho chiamato anche perché ho fatto un abbonamento nuovo col telefono, che se io chiamo qualcuno e sto al telefono qualche minuto mi ricarico. Allora ho detto, vabbè, chiamo Stefano che al mare l'ho conosciuto quest'estate, quindi... È vero. È vero. Eh, sì. E quindi, non so... Due minuti. Ma adesso dove sei? Eh, sono in giro. No, dico, dove sei? Sei sempre lì al tuo paese? Sì, sì, sì. Ah, non sei andato in città? Stai girando i coglioni. No, 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 no. E com'è il tempo un po'? Tre minuti. Ma un po' piove, un po' non piove. È pazzesca sta cosa. Quest'anno fa un caldo. È pazzesca. Eh, sì, sì, sì. Hai fatto il bagno? Fai il bagno ancora? Eh, sì, sì, ho fatto il bagno. Che bella vita proprio, guarda, ti invito. Quattro minuti. Allora, aspetta un attimo che il telefono mi segna adesso che ho preso otto euro. Ancora un minuto, così faccio dieci euro, dai. Perché devo andare. Dove devi andare adesso? Aspetta un attimo. Ma un attimo, un minuto neanche. Adesso sono già cinquanta secondi e poi ho fatto dieci euro. Sì, vabbè, ma sono... Aspettami qualcosa, dai, che allunghiamo il tempo un po'. Guarda, sono contratti del cazzo, perché tu non puoi chiamare la gente. Il caricante di telefono, cioè... No, però è così. Quando ci vediamo poi ti offro uno spritzio. No, no, non mi devo offrire niente. Però, capisci, uno può essere impegnato una cosa avanti. Vabbè, è un amicizia, fai un gesto d'amico, ho capito. Ho capito, ho capito. Aspetta ancora un attimo che arrivo a dieci euro, così a me non mi posso prendere il vino al bar oggi, capito? Eh, ho capito. Dai, sei gentilissimo proprio. Senti, raccontami un po' qualcos'altro, dai. Mancano 40 secondi. Guarda, non c'ho niente da raccontare. Al mercato sei andato stamattina. C'ho da fare qua. Dai, però aspetta, non buttare giù, perché sennò... Eh, ho capito. Devo completare il minuto. Completare il minuto. Mi mancano 20 secondi. Aspetta, dai, Stef. 20 secondi. Ti spiego, ci siamo conosciuti a Molo. Sì. Ti hai chiamato per caricare il telefono. Mancano 20 secondi. Mi sembra che ci sia tanta confidenza da poterlo. 10. Ho capito, ma sono... Guarda, 10 secondi ho finito. 10 secondi, aspetta un attimo. No! Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico. Che merda. Schizzo. State ancora un attimo al microfono che ho quasi finito. Ma non mi sembra che ci sia la confidenza. Non hai raggiunto niente.